Sono quei servizi che noi vogliamo dedicare alle persone che vivono in strada, che hanno problemi di disagio sociale, economico e che hanno bisogno di essere supportati in maniera costante nella loro quotidianità. In questo caso noi stiamo ampliando nel nostro SAI una serie di servizi che vanno dalla lavanderia al lavaggio dei vestiti, alla possibilità di dare vestiti nuovi soprattutto per il freddo, a una supervisione rispetto ai bisogni legali, psicologici e medici delle persone che vivono per strada. È una delle piccole azioni che stiamo facendo ma importanti perché la povertà sta aumentando e noi stiamo cercando di dare quante più risposte possibili, non solo per l'accoglienza ma anche per la presa in carico di queste persone che hanno bisogno di essere aiutati a 360 gradi. Oltre ai servizi per la cura della persona come doccia, guardaroba e lavanderia e alla mediazione culturale, il nuovo servizio di accoglienza a bassa soglia per le persone senza fissa dimora, forse come caratteristica principale, offre un'atmosfera, quella dell'accoglienza e di un senso di solidarietà e di trattamento dove è possibile sentirsi protetti e accompagnati. C'è un forte aumento strutturale della povertà e della precarietà sociale in tutto il paese e di conseguenza della fragilità e dell'esclusione sociale. Povertà estrema, gravi dipendenze ed esclusi dalle politiche di welfare rappresentano un tema di estrema urgenza che diverse istituzioni devono affrontare in maniera organica per assicurare coesione sociale e rispetto della dignità umana. Il comune di Napoli risponde anche ampliando l'offerta di accoglienza ed assistenza con il nuovo presidio in via Santa Maria Verteceli con sportelli di ascolto il martedì e il giovedì dalle 14 alle 19. Iniziare dalla bassa soglia, cioè iniziare a stargli vicino e a conoscerli ci aiuta, aiuta le nostre unità di strada, i psicologi, i servizi sociali a trovare poi una strada successiva. Non sempre quando le persone sono per strada mi dicono perché non li ospitate nei dormitori, bisogna prima fare un percorso di conoscenza, di avvicinamento e poi il dormitorio è l'ultima possibilità perché con fatica ci riescono, ci vogliono andare.